Raggio Zapptidi, per favore fai più attenzione con questo Uh, un Zappi No, non la mia Cheesecake, non la mia Cheesecake Ogni giorno ci battiamo per il potere illimitato Non è facile, sfida dopo sfida e le persone vengono eliminate Non possiamo arrenderci ora Per il potere di tu Ok, dovrebbero tornare tutti Quante morti Forse rinuncieremo questa sfida e ci concentreremo sulla prevenzione delle morti In questo turno dobbiamo porre fine a tutte queste morti Concordo È l'ora di torte a morte La torte a morte La torte di oggi è una Cheesecake che è stata un po' rovinata dalla situazione Sono sicura che è delizioso, tu A fermetti di vetro da per tutti Grazie a tutti